C'è l'occai dello Stato al progetto da oltre 2 milioni di euro. Dopo decenni di polemiche e danni alle abitazioni private provocate dalle alluvioni, come quella disastrosa di un anno e mezzo fa, il Comune di Casteggio potrà dare il via ai lavori di sistemazione del torrente Riazzolo, già partiti invece quelli sul torrente Rile. Sono questi due modesti corsi d'acqua che arrivano dalle colline retrostanti il centro storico e che nell'autunno 2019, a seguito di intense precipitazioni, provocarono ingenti danni. Il problema è lo stesso. Arrivati in prossimità delle abitazioni, i due corsi d'acqua scorrono in tombinature sotterranee per poi sbucare a valle dell'abitato. Nel corso degli ultimi eventi alluvionali, però, la portata d'acqua era tale che le condotte, troppo piccole, non sono riuscite a farla defluire. Con tutto ciò che ne è seguito. Se per il Rile, però, le operazioni erano più semplici, dato che la tombinatura era già piuttosto grande, per il Riazzolo non c'era altra strada che rifarla completamente con una spesa enorme per le casse di un piccolo comune. Nei giorni scorsi, però, un po' sorpresa, è arrivata la buona notizia del finanziamento da 2,3 milioni di euro. I lavori dovrebbero iniziare in estate. Dopo gli interventi del Coppa concordati con la regione Lombardia, dopo gli interventi sul Rile che appunto sono partiti, abbiamo avuto un importantissimo finanziamento, questa è la notizia, di 2 milioni e 300 mila euro a fondo perduto da parte del Ministero degli Interni per la messa in sicurezza dei torrenti. che riguarderà interventi su il Riazzolo, che è l'altro nostro corso d'acqua che dà da tempo un sacco di problemi e che di fatto verrà completamente rifatto. Il progetto che abbiamo presentato al Ministero, che è stato finanziato nel giro di qualche mese con nostro grande piacere, prevede il rifacimento completo della tombinatura del torrente sottostrada. Parliamo di un intervento storico per Casteggio.